bentornati amici nel canale oggi vi voglio svelare un altro segreto di famiglia ovvero lo shampoo per rendere i capelli belli licenti sani e forti fino alle punte come usando la farina ovvero la farina di segale ho acquistato 500 grammi di farina di segale biologica mi durerà per tutto l'anno verso due cucchiaini da tè pieni di farina in una tazza ed aggiungo l'acqua mescolo gli ingredienti e lascio riposare per 7 8 minuti nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanellina a tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati dopo il riposo ecco come si presenta il nostro composto è pronto poi spalmo direttamente sul cuoio capelluto a capelli asciutti massaggio la cute sciacquo e risciacquo più volte fettino ed asciugo i miei capelli direttamente al sole volendo posso usare anche il fono perché con questo shampoo non danneggia sia le punte che la radice e credo che i miei capelli si lasciano ammirare sono forti lucenti sani belli e profumano ringrazio tutti per aver guardato il video ciao alla prossima